Io sono rimasto colpito da questo evento perché in particolare da una parte in cui hai corto l'integrazione fra le ombre e sono rimasto colpito da questo perché la mia arte si basa su questo quindi sull'integrazione dell'armonia e del caos Infatti al finale ho scritto anche sentendo una canzone di un artista che io amo Si intitola People Help the People Mi è rimasto nel cuore perché la prima volta che la senti senti questa voce soave che è come se mi curasse le ferite quindi in un certo senso come se il mio amore verso il prossimo si elevasse e questo per me è molto importante perché sento che faccio parte della mia missione di vita Da questo corso, da questo mini-evento è messo Grazie Edoardo Vi faccio vedere le copertine adesso Questo è il percorso Il percorso dura 120 ore in 6 mesi Sono 5 laboratori smart vuol dire che sono laboratori di 5 weekend in tutto uno al mese più una formazione online che rimarrà disponibile sempre per acquisire il titolo di coach in intelligenza emotiva per l'empowerment con la specializzazione come tecnico del metodo autobiografico creativo Che cosa si fa in questi 5 laboratori? Nel primo si parla di intelligenza emotiva ovvero di crescita personale con il metodo autobiografico creativo Nel secondo si parla di narrazione delle origini tradizioni e cultura familiare Poi un weekend dedicato all'autoritratto sguardo interiore, percepirsi e rappresentarsi uno interamente dedicato al mondo delle fiabe autobiografiche con il tema della metafora come svelamento e poi il lavoro con le immagini dal corpo Ogni unità didattica è corredata di un ebook e la base di formazione online che rimarrà sempre disponibile Diversamente, qualora sia difficile garantire la presenza nei 5 weekend mensili c'è la versione asincrona dello stesso percorso A tutti gli amici che sono interessati ad approfondire questa possibilità Do due alternative O cliccare sul link per prenotare direttamente il posto in aula per le attività che partiranno nel mese prossimo O in alternativa di segnalare in privato il bisogno di essere contattati anche per essere guidati nell'iscrizione Per cui nelle prossime ore o Fabrizio o Laura vi chiameranno per valutare insieme con voi tutto ciò che serve ai fini del perfezionamento dell'adesione a questo master nel tecnico del metodo autobiografico Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!